Anche il piano ospedaliero mortifica l'agrono Cirino Sarnese. Il mancato, annunciato e previsto passaggio a dea di secondo livello del secondo ospedale della provincia di Salerno, semina sconcerto e rabbia nell'area nord della provincia, già mortificata negli ultimi anni da una politica regionale salerno-centrista che ha relegato l'agrono Cirino unicamente a territorio cerniera tra i capoluoghi di Napoli e Salerno. Il nuovo piano ospedaliero regionale è solo l'ennesima mortificazione e la conferma di annunci propagandistici del governo di Palazzo Santa Lucia, alla cui corte sono assoggettati tanti sindaci. Resta disastrosa la qualità della vita. Inquinamento, viabilità e trasporti fanno aumentare in maniera esponenziale malattie oncologiche, ma non solo. Scuola, welfare e sanità relegano l'agro ad uno degli ultimi posti. L'assistenza sanitaria ed ospedaliere è stata solo oggetto di promesse e campagne elettorali degli ultimi anni. Ad evidenziarlo, in una nota stampa, il consigliere regionale Alberico Gambino, che ricorda la mancata apertura del pronto soccorso del Mauro Scarlato di Scafati, come invece promesso e come nel gennaio 2016 De Luca in persona, in visita all'ospedale di Pagani, annunciò. Ma c'è anche la realizzazione della radioterapia presso il polo oncologico dell'Andrea Tortora. Tutte promesse, secondo Gambino, rimaste tali. Ed ora la mancata promozione dell'ospedale Umberto I, che resta dea di primo livello. In tal modo, gli sforzi prodotti in questi anni dagli operatori di questa eccellente struttura sanitaria, afferma il consigliere regionale, dove afferisce un'itenza che abbraccia, oltre che mezza provincia serenitana, anche parte di quella napoletana, resta al margine. Nel nuovo piano ospedaliero, infatti, non è stato previsto il passaggio dell'Umberto I, a dea di secondo livello, come robuatamente promesso a più riprese da un governatore, afferma Gambino, capace solo di annunci ad effetto, che puntualmente rimangono lettera morta. Con questa ennesima sconcertante promessa non mantenuta, ripetuta da mesi e da ultimo il 22 settembre scorso, il plesso ospedaliero Umberto I rischia di non riuscire a mantenere in piedi ed in vita reparti di vera eccellenza sanitaria, come la terapia intensiva neonatale, la neurochirurgia, l'onquematologia, cioè dipartimenti, prosegue Gambino, che possono esistere e coesistere solo in un dea di secondo livello. Il consigliere regionale auspica una levata di scudi dei sindaci dell'agro affinché elevino forte la loro protesta nei confronti di un governatore che continua a dimostrare di non avere alcun interesse o impegno verso l'agro sarnese nocerino. Per parte mia, conclude Gambino, ho già chiesto la convocazione di una specifica riunione della Commissione Sanità al fine di ridiscutere e rivisitare il piano ospedaliero regionale che è errato, profondamente eniquo nel rispetto dei criteri di eccellenza raggiunti da vari plessi ospedalieri del territorio. Mortificante, aggiunge Gambino, per l'Umberto I che più di tutti ha requisiti per essere caratterizzato dalla qualifica di idea di secondo livello. Grazie.